Accogliere in KSB gli studenti delle scuole di Monza e del territorio della Brianza per questa giornata della tecnologia per noi è un momento molto importante, è un'iniziativa a cui abbiamo aderito subito, senza esitazione e con molto entusiasmo perché tanto per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo è anche un riconoscimento a uno dei più grandi geni della cultura italiana considerando che è stata organizzata proprio in occasione di questo evento. Ma scendendo proprio sul piano più pratico, cosa significa per noi accogliere questi ragazzi? Intanto dare a loro un'idea, un'immagine di come effettivamente funziona un'azienda tecnologicamente all'avanguardia come KSB tecnologicamente all'avanguardia ma pur con quasi 150 anni di storia alle spalle, questo è un po' una delle caratteristiche di KSB il sapersi sempre rinnovare pur mantenendo forte una grande tradizione di affidabilità e di tecnologia. Quindi per noi è importante accogliere questi ragazzi perché intanto diamo a loro un'idea che purtroppo manca attualmente nel mondo scolastico attuale di cosa significa in realtà il mondo del lavoro. Quindi anche di poco tempo passato in un'azienda può servire a capire effettivamente come i loro genitori passano il tempo praticamente quando sono fuori da casa sostanzialmente. Poi serve anche appunto ad aiutarli a capire quali potrebbero essere le loro future scelte perché questi ragazzi uscendo dalle scuole superiori possono adesso avere mille opportunità, possono trovare un lavoro già con il loro titolo di studio, possono andare all'università, possono anche iscriversi agli ITS che sono questi istituti tecnici superiori che adesso stanno prendendo molto piede soprattutto nel mondo della meccatronica. Noi che abbiamo sempre ultimamente aderito a questo tipo di iniziative, alternanza scuola lavoro oppure ha ospitato le scuole presso la nostra realtà anche in altre occasioni, abbiamo un riscontro molto positivo nel senso che abbiamo anche assunto diversi ragazzi sia degli ITS che delle scuole superiori che adesso sono già inseriti nella nostra realtà aziendale siamo molto soddisfatti delle loro prestazioni, siamo molto soddisfatti del modo con cui si interfacciano con i loro colleghi più maturi e quindi ripeto, oltre all'importanza sociale di aiutare questi ragazzi a capire un po' come funziona il mondo del lavoro lo consideriamo effettivamente un ottimo bacino per poter attingere ai talenti che a noi servono continuamente per essere sempre all'altezza di quello che il mercato ci richiede. Quindi possiamo affermare sostanzialmente che si tratta di giornate che non hanno più a valenza cioè da una parte a questi ragazzi viene data la possibilità di toccare con mano quello che apprendono sui banchi di scuola dall'altra parte per un'azienda come la vostra, in generale per tutte le aziende diventa invece un'opportunità, una possibilità di attingere ragazzi giovani da plasmare, da far crescere. Esatto, è proprio così, infatti come le dicevo abbiamo assunto già oramai da due anni il più giovane assunto della KSP che quando l'abbiamo entrato presso la nostra azienda aveva poco più di 19 anni e adesso c'è un ragazzo con due anni di esperienza e sta facendo molto bene e sono tutti molto contenti del suo inserimento in azienda.